Ciao ragazzi, oggi siamo andati all'Eurospin e sono felice come un bambino perché sinceramente mi hanno fatto anche i regalini all'Eurospin Sì, i regalini io li ho aperti Sì, delle bustine dove escono Ecco qua, le bustine dove escono I regalini Sì, io ho già l'aperte per comodità Ed è uscito a uno E' uscito Questo, non so chi sia Non lo so chi sia, lo sapete voi? E' uscito lui Sono delle gommine Eccole qua Non mi riesco a far vedere Ragazzi Sono delle gommine Si mettono sopra alle E l'altro mi è uscito Shrek Sì, Shrek Anche lui con La Sua cosina Ragazzi, un bacio a tutti E sono felice come un bambino Avuti il regalino Babbo Natale Ciao Ciao